Buon pomeriggio dalla redazione di Florence Multimedia in studio Nicola Giannattasio. In A1 in direzione Roma ci sono rallentamenti tra il bivio con la A11 e Firenze Impruneta per materiali dispersi. In A12 controllo della velocità tra Pisa Centro e Rosignano Marittimo in direzione Rosignano. Sul raccordo Siena-Firenze in direzione Siena scambio di carreggiata per lavori tra lo svincolo di Firenze Impruneta e San Casciano Nord. Sulla statale un'aurelia riduzione di carreggiata per fondo stradale dissestato tra il bivio per San Vincenzo Sud e quello per San Vincenzo in direzione Genova. Sulla statale 62 della Cisa senso unico alternato per un cantiere tra Villa Franca in Lunigiana e Pontremoli in entrambe le direzioni. Moversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Vi auguriamo un buon viaggio.